Centro Opera Don Guanella di Napoli, assemblea di fine anno dell'Uneba Napoli. Si parlerà questa sera della difficile situazione economica che i centri assistenziali stanno attraversando da ormai tre anni. Si cercheranno di capire i problemi concreti che ogni centro ha, le possibili soluzioni rispetto anche al 2012 che è ormai alle porte e si cercherà anche di esporre i progetti nuovi che l'Uneba Napoli vuole porre in essere nel nuovo anno non solo per l'aspetto economico ma anche per valorizzare il lavoro, il tanto lavoro che sta facendo l'Uneba in questi anni in un'ottica anche di rinnovamento, di valorizzazione in una visione lungimirante. Dottor Dario Migliozzi del centro socioeducativo di Miano, qual è questo centro che zona abbraccia? Il centro abbraccia la zona di Miano, Secondigliano, Piscinola, Marianella, quindi una zona ad alto rischio, una zona molto disagiata. Il centro accoglie una serie di minori, facciamo varie attività, attività che iniziano dalle 8.30 del mattino, accogliamo i minori, fanno normale didattica e poi nel pomeriggio fanno varie attività con gli operatori, attività ludico-ricreative. Da quanto tempo? Il centro opera in questa zona da circa 20 anni, io eredito un po' quella che è la storia di questo centro come amministratore. Diciamo che vista la zona che non ha tanti sbocchi culturali siamo un punto di riferimento per le famiglie e per i bambini soprattutto, perché puoi immaginare che non ci sono strutture che possono accogliere questi bambini e li strappiamo proprio così dalla strada. Quindi evitiamo che questi bambini stiano tutta la giornata per strada e quindi noi come UNEBA, con i vari centri, li togliamo letteralmente dalla strada e facciamo in modo che vivano una realtà normale, tra virgolette, mi passi il virgolettato, però con estreme difficoltà. Lei può ben capire che sono più di 32 mensilità che purtroppo il comune non ci corrisponde e quindi può immaginare le difficoltà proprio economiche a cui siamo esposti. Cioè molti istituti sono esposti personalmente per poter andare avanti e affrontare la situazione che è molto grave. Dispiace dirlo ma è così, è estremamente grave. Quante sono le persone che lavorano in questo centro? Beh, così facendo un calcolo veloce sono diversi operatori, in totale sono 20-25 operatori da quelli che lavorano a stretto contatto con gli educatori, con i bambini, ma anche non dimentichiamo il personale ATA, cioè i bidelli, persone addette al trasporto, perché noi assicuriamo anche il trasporto dei bambini, cioè andiamo a prenderli direttamente a casa e li portiamo in istituto. Quindi per ogni istituto conti 20-30-40 operatori e il calcolo è presto fatto, sono circa 60 istituti che fanno parte dell'Uneba e offrono questo servizio per il Comune di Napoli. Quindi difficoltà economiche che ricadono poi su queste persone, su questi operatori? Eh certo, perché siamo in una, direi, ipoessia, cioè non abbiamo proprio mancanza di denaro liquido e quindi puoi ben immaginare che i rifornitori non possono essere pagati, i rifornitori intendo le ditte che ci danno il mangiare, detto in maniera banale, ma è ciò che dobbiamo da mangiare ai bambini e quindi si sommano debiti su debiti e anche gli operatori che hanno le proprie famiglie, hanno i propri familiari e sono vari mesi che purtroppo non riusciamo a dare lo stipendio, è così, la situazione purtroppo è questa. Qual è quindi il suo appello che vuole fare all'estituzione? Beh, l'appello che rivolgiamo al sindaco e all'aggiunta tutta è quella di darci una mano, i segnali, qualche segnale, timido segnale c'è stato, speriamo che ci venga tesa una mano e ci venga dato un aiuto concreto, ecco questo chiediamo al sindaco dei magistri che sappiamo essere molto disposto, essere molto sensibile all'argomento e chiediamo un accorato appello, ecco affinché possiamo continuare questo servizio che credo sia indispensabile in una città, in una regione con elevati tassi di criminalità e almeno assicuriamo ai minori un futuro migliore, ecco senza fare falsa retorica ma questa è la realtà dei fatti. Madre superiore a Sorgisella Piccolo, madre superiore del centro socioeducativo Francescane di Sant'Antonio di Secondigliano, da quando è attivo il vostro centro e come si struttura? Il nostro centro, io penso che sarà attivo dopo che ci hanno tolto il collegio, ma non mi ricordo bene quando è stato, dai dal collegio è passato al semiconvitto, prima eravamo molti ragazzini, il comune pagava e stavamo bene, adesso questi ragazzi, questo comune non pagava, sono tre anni, 2009, 2010, 2011 che non dà niente e noi non possiamo andare avanti perché io ho nove personali che lavorano con noi perché le sue ore oggi non ci sono più, non se ne fanno più, siamo poche sue ore noi che gestiamo la situazione però teniamo queste nove ragazze, teniamo la cuoca e laica, due insegnanti nella scuola materna e laica, quattro insegnanti nel dopo scuola e laica, tutto laica e ognuna assistita bene con la busta paga e adesso questi tre anni che non pagano stiamo passando un periodo molto molto difficile, io mi sto distruggendo perché non posso andare avanti perché i ragazzi devono dare, perché io solo quello entrato, solo questi bambini Quanti bambini assistete? Sono 26, abbiamo sempre tenuto tanti, però adesso il comune non chiude, sono 26 ragazzine però devono mangiare, fanno i dopo scuola, fanno tutto, come si fa ad andare avanti senza soldi? Non possiamo noi andare avanti, dobbiamo solo o sospendere o chiudere, mandare questi ragazzini in mezzo alla strada e mandare tutti i personali in mezzo alla strada perché sono tutta mamma di famiglia, non abbiamo il coraggio, però se i soldi non ci sono, non lo so come dobbiamo fare Quali sono le attività che offrite a questi ragazzi? Le attività che offriamo, c'è scuola in casa, il dopo scuola, poi facciamo le attività integrative, fanno l'antina americana, fanno il calcetto, fanno tutto questo così, tutto con i debit Quali sono insomma le difficoltà concrete che state affrontando da tre anni a questa parte? Le difficoltà concrete che i soldi non ci sono e non possiamo andare avanti, tante cose l'abbiamo anche chiuso Qual è quindi il suo appello al sindaco, all'amministrazione comunale, all'istituzione? Che devono pagare questi ragazzi perché non li dobbiamo mandare in mezzo alla strada, non è giusto perché noi abbiamo tutti i bambini, figli dei carcerati e figli dei drogati, ma veri carcerati che fanno 10-11 anni in carcere e questi ragazzi da noi trovano tanto amore e tanto affetto, questa è la situazione Cosa che invece è destinata a mancare se appunto il comune non paga? Dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere e mandarlo fuori, mandarlo via questi bambini, bambini con il personale, più di questo non possiamo, io adesso non ho soldi per dare la tredicenza ma il mensile, non so a chi mi deve rivolgere Pasquale Adamo, fondazione Famiglia di Maria San Giovanni a Teduccio, da quanto tempo questo centro è in attività e in cosa si occupa? Il centro è attivo da diversi anni, la sua storia nasce agli inizi del Novecento quindi poi nel tempo ha avuto varie trasformazioni, prima da orfanotrofia poi in centro semiresidenziale attualmente ci occupiamo di minori con disagi che vengono intercettati e individuati dai servizi sociali mediamente lavoriamo con circa 70-80 minori o individuati o dai servizi sociali del comune di Napoli o dai servizi sociali della Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia sono situazioni particolari con famiglie in stato di bisogno o economico o giudiziario e quindi il nostro lavoro consiste nel sostenere la famiglia e il minore in un percorso socio-educativo unitamente ad evitare un'esclusione scolastica o un'evasione scolastica Qual è la giornata tipo che si svolge all'interno dell'istituto? Quali sono le attività che nel concreto si fanno? L'attività incomincia la mattina alle 7 e mezza perché noi andiamo a casa dei bambini a prenderli per poi portarli nel centro, fargli fare colazione e portarli poi a scuola quindi interagiamo poi con la scuola, con le insegnanti per il loro percorso scolastico li andiamo a riprendere all'uscita, vengono nel centro e pranzano con gli educatori dopo aver pranzato poi iniziano le attività sia post scolastiche che di laboratorio tutta l'attività va avanti fino alle 17.30 in modo ordinario dove poi li riaccompagniamo a casa e poi ricomincia il giorno dopo le attività il sabato e quando le scuole stanno chiuse in genere l'attività va avanti fino alle 15.30 però per tutta la giornata anche dalla mattina in modo da evitare che i ragazzi stiano per strada e evitare che loro possano poi perdere questo rapporto con la scuola e quindi ricadere di nuovo nell'evasione scolastica Lei ha sofferto e sta soffrendo come gli altri istituti la situazione economica, difficoltà economiche nel gestire questo istituto? Beh, sofferenza sarebbe un elemento semplice, in effetti in questo momento stiamo proprio nelle condizioni di non poter più andare avanti anche perché le banche non riescono più ad anticiparci fatture noi abbiamo un credito nel confronto del Comune di Napoli che oramai è avanti dal 2008, sono circa tre anni in questi tre anni non ci sono stati pagamenti di fatture emesse per questi contributi che poi sono contributi perché noi riceviamo per ogni minore un contributo di circa 20 euro, 21 euro per tutte le attività i gruppi vengono strutturati con minori di 10 per ogni educatore compreso poi tutte le attività di laboratorio quindi in questo momento la sofferenza finanziaria è enorme e la cosa che ci dispiace è che in questo periodo è Natale e sappiamo che il Comune di Napoli per varie situazioni di bilancio o altro ha anticipato dei pagamenti per alcuni servizi sociali e non per i servizi sociali del centro semiresidenziale questo significa che ci sono nella città di Napoli operatori di serie A e operatori di serie B operatori che sono riusciti ad avere un contributo ora prima di Natale e operatori che non riusciranno ad avere neanche questo questo naturalmente non può essere corretto nei confronti di persone che lavorano e che hanno fatto in modo di poter tenere un'attenzione alta per i servizi sociali di Napoli Nelle varie assemblee dell'Unebe anche stasera si è evidenziato che una piccola soluzione, magari provvisore, una boccata d'ossigeno poteva essere la disponibilità che ha dato Banca Prossima lei e il suo istituto ha pensato di accedere a questa disponibilità? Noi sappiamo che su questo era sia Banca Prossima che anche la Banca Popolare Etica con cui noi abbiamo un rapporto che hanno dato una disponibilità ma di fatto questa disponibilità non si trasforma immediatamente in una condizione di liquidità questo però significa che comunque questa disponibilità significa che noi paghiamo gli interessi e con il tempo, oramai sono tre anni, tenendo conto degli interessi significa che un servizio che è stato reso porta in questo momento una riduzione di quello che è dovuto sul 35-40% questo significa che le casse, le liquidità degli enti che hanno dato questo oramai è alla fine cioè proprio stiamo proprio ai debiti, non si riescono a coprire neanche gli interessi delle banche Come ad un istituto chiediamo qual è il suo appello? Beh l'appello sarebbe quello di in questo momento all'assessore Sergio D'Angelo e al sindaco di guardare un attimo chi ha consentito alla città di Napoli di poter andare avanti sui bisogni e tutti insieme poter risolvere qualche altra situazione l'assessore non è uno che saldi fuori di queste problematiche fino a qualche mese fa era un operatore sociale e quindi sa benissimo le difficoltà degli operatori sociali quindi in questo momento credo che forse lui abbia qualche sofferenza nel pensare a questa condizione ma se ci socializziamo potremo trovare qualche risposta sicuramente sia lui che il sindaco dovrebbero darne una risposta